Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione e agli aggiornamenti. In particolare parliamo di aggiornamenti che riguardano i territori colpiti dal maltempo in alcune province del Veneto. Duramente colpito come vi abbiamo raccontato ieri la città di Rovigo, il comune di Rovigo, ma nella notte ci sono stati nuovi fenomeni che hanno portato gravi criticità anche in provincia di Treviso a Castelfranco Veneto. Apriamo questa edizione con un resoconto di quello che sta accadendo a Rovigo dove ieri mattina si è sviluppata una potente tromba d'aria. I lavori di soccorso sono durati tutta la notte. Guardiamo. Dopo la tromba d'aria che ha colpito la zona di Rovigo nella giornata di martedì, le operazioni di soccorso sono proseguite tutta la notte e anche tutta la giornata seguente. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rinforzato da personale e mezzi dei comandi limitrofi. Un dispositivo elevato per far fronte a una situazione di criticità. Oltre alla tromba d'aria che ha scoperchiato edifici, ha fatto volare detriti e ha colpito numerosi automobili, il territorio sta facendo la conta anche con gli allagamenti. In particolare nella notte sono state eseguite numerose operazioni di prosciugamento, ma naturalmente i cittadini dovranno continuare anche nei prossimi giorni a sistemare ciò che è andato distrutto. Gli interventi richiesti dai cittadini in emergenza sono stati oltre 210. E dunque avete sentito questa la situazione a Rovigo e nelle aree limitrofe, ma dicevamo gravi situazioni di criticità anche in provincia di Treviso, dove ieri sera oltre al potente nubifragio ha esondato anche la Venale. Guardate la situazione. Martedì sera un nuovo fronte del maltempo ha colpito il Veneto con gravi criticità in provincia di Treviso, a Castelfranco Veneto in particolare, dove si è verificata l'esondazione del fiume a Venale. In pochissimi minuti a Castelfranco si è scatenato l'inferno, una vera bomba d'acqua provocato allagamenti invadendo strade e piani bassi degli edifici. Sott'acqua sono finiti anche i garage semi interrati. La situazione è diventata ancora più difficile a causa dell'esondazione del fiume nel centro cittadino in provincia di Treviso. Interessati dal maltempo anche i comuni di Riese e Castello di Godego. Anche in queste zone numerosi interventi per strade e sottopassi allagati, autorimesse, scantinati, ricolmi d'acqua. Ma i vigili del fuoco sono intervenuti anche per la rimozione di ostacoli e alberi pericolanti. Oltre 140 le richieste di soccorso. Il dispositivo anche in queste zone è stato rinforzato. I disagi per il maltempo non hanno risparmiato il territorio della provincia di Vicenza, già pesantemente colpita il mese scorso da nubi fragi e allagamenti. I danni sono stati registrati particolarmente in provincia, da Bassano a Marostica fino a Rossano e le zone limitrofe. Nel corso del telegiornale vedremo anche le condizioni climatiche, cosa prevederanno per le prossime ore. Adesso ci occupiamo di un altro fatto di cronaca che arriva da Padova. Colpo di scena sulla morte di Vera Slepoi, scomparsa la settimana scorsa in città e trovata senza vita all'interno della sua abitazione. Tutto era stato attribuito inizialmente a un malore fatale, ma la famiglia che si è rivolta all'avvocato Massimo Munari dichiara che Vera stava bene ed era in salute. Dunque è stato depositato un atto in procura e proprio la procura ha aperto un fascicolo di inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo, al momento senza indagati. Vera Slepoi è scomparsa la settimana scorsa nella notte tra il 20 e il 21 giugno. Aveva 70 anni e adesso ci spostiamo in provincia di Verona. Parliamo di un gravissimo incidente avvenuto ieri coinvolto un monopattino. Nella serata di ieri un giovane alla guida di un monopattino elettrico per cause ancora sconosciute si è scontrato con un'autovettura sulla strada regionale 11, località ritonda nel comune di San Bonifacio, nel Veronese. Il ragazzo, ferito seriamente, è stato prontamente soccorso dal personale dei vigili del fuoco del distaccamento di caldiero che nello stesso momento stavano transitando in rientro da un intervento. I pompieri si sono prodigati per praticare le manovre di primo soccorso e posizionare il defibrillatore e il collare cervicale sul giovane che risultava incosciente, oltre a comunicare con la sala operativa del 118 per l'invio di personale sanitario che, giunto sul posto, ha provveduto a stabilizzare e elitrasportare il ferito vista la gravità della situazione. Le operazioni di soccorso e assistenza al paziente si sono concluse intorno alle 20.30 con la messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti nel sinistro. In questi giorni abbiamo a lungo parlato della tragedia avvenuta a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, dove una bambina di tre anni è morta annegata in un canale di scolo, mentre con la famiglia si trovava a fare un picnic su un prato. Su questa vicenda è stato aperto un fascicolo di indagine. Il papà della piccola risulta iscritto nel registro degli indagati, un atto dovuto, anche se le circostanze sono state quelle del tragico incidente. Un motociclista finito fuori strada in moto è rimasto gravemente ferito a Padova. L'incidente è avvenuto l'altra notte in tangenziale, lungo corso Australia. L'uomo alla guida della due ruote, a 29 anni, avrebbe subito l'amputazione di un braccio. La causa dell'incidente è in fase di ricostruzione. Il motociclista è finito fuori strada in maniera autonoma e non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Adesso parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza, intervenuta per recuperare l'evasione d'IVA. Sentiamo i dati, cosa ci dicono? Oltre 1.200 evasori individuati, recuperati 1 miliardo e 800 milioni di basi imponibile netta e 570 milioni di IVA evasa. Questi alcuni dei dati di sintesi dell'attività operativa della Guardia di Finanza del Veneto dal 1 gennaio 2023 al 31 maggio di quest'anno. Il quadro sintetico è stato fornito stamani dal comandante regionale del Corpo delle Fiamme Gialle. Nell'ultimo anno e mezzo i militari hanno scoperto illeciti in materia di crediti d'imposta per oltre 2,3 miliardi di euro. Hanno denunciato 1.911 soggetti per reati tributari, 28 li arrestati e sequestrato beni per oltre mezzo miliardo di euro, ritenuto profitto di evasione fiscale. Sul fronte del lavoro sommerso sono state individuate quasi 6.000 persone irregolari o completamente in nero. Infine sono state sequestrate 1,62 tonnellate di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina, hashish e marijuana, con la denuncia di 536 soggetti. Islam Mia è questo il nome di un lavoratore di un cantiere edile che lavora sulle navi a Marghera e che ha perso la vita improvvisamente. Non è chiaro se la causa sia da attribuire a un malore oppure ad una caduta fatale. Islam sarebbe stato sopra una piccola impalcatura. Quando avrebbe detto di non sentirsi bene sarebbe crollato a terra. Queste le testimonianze che stanno girando nelle ultime ore. Il 34enne è stato ricoverato all'ospedale ma nell'arco di poco tempo le condizioni sono peggiorate sino ad arrivare alla morte. Sul posto è intervenuto il SUEM assieme alle forze dell'ordine, naturalmente allo Spisal. Presente anche il sindacato che sta seguendo tutta la vicenda. Grande dolore in questa tragedia improvvisa tra tutti i lavoratori di Fincantieri. Si svolgeranno sabato i funerali di Don Luigi Bassetto dopo il nulla osta della Procura. L'ex parroco di Santa Maria Maggiore a Treviso è morto all'ospedale di Feltre. La sua morte nei giorni scorsi è stata al centro delle indagini disposte dalla Procura per una probabile somministrazione troppo elevata di morfina. Naturalmente bisognerà capire lo sviluppo delle indagini. Intanto per Don Luigi ci sarà la cerimonia e potrà riposare serenamente. Parliamo adesso di un incidente avvenuto questa mattina a Venezia nei pressi della Ponte della Libertà all'interno dell'area delle imbarcazioni. Un natante si è capovolto improvvisamente. Nove le persone finite in acqua. Ecco cosa è accaduto. Nove persone sono finite in acqua a Venezia in seguito al rovesciamento di un'imbarcazione da voga. È accaduto mercoledì mattina per cause al momento imprecisate, anche se potrebbe essere da attribuire al moto ondoso presente in quel momento. Fortunatamente l'incidente è avvenuto in un punto dove il fondale è basso, quindi non ci sono state gravi conseguenze per i naufraghi. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto che si trova all'altezza dei cannoni del Ponte della Libertà sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno caricato a bordo della loro imbarcazione i naufraghi. A scopo cautelativo, allertati e pronti all'impiego, il nucleo sommozzatori, l'elicottero Drago 149 del reparto volo dei vigili del fuoco e l'idroambulanza del suo M118. Tutte le persone cadute in acqua sono state portate in salvo. L'imbarcazione è stata trainata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un alert per la scarsa attività fisica delle persone. Questo mette a rischio la salute degli adulti in particolare. I dati sono stati diffusi a livello globale, ma ovviamente riguarda anche noi. Ad essere più sedentari sarebbero le donne. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli adulti di raggiungere i 150 minuti di attività fisica intensa moderata o 75 minuti di attività vigorosa almeno una volta alla settimana. La mancanza, avverte l'OMS, di attività fisica espone le persone a rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, demenza, ma anche tumori, in particolare al seno e al colon. Parliamo adesso di clima. Secondo gli esperti dell'ARPAV di Teolo, il maltempo che ha tenuto sotto scacco in questi giorni il Veneto dovrebbe essere in esaurimento e si sposterà verso est lasciando spazio a una temporanea rimonta del promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo. Il tempo tenderà dunque con le prossime ore a diventare più stabile e anche le temperature aumenteranno addirittura portandosi su valori un po' sopra la media. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione e vi do la rivederci. Buona serata. Grazie a tutti.